Mentre lo scalea detta calcio, la Vigor si porta a casa l'intera posta. È l'epilogo di una gara impenetrabile, giocata a distanza per 70 minuti, quelli in cui i padroni di casa hanno guadagnato anche il vantaggio dal ventunesimo di gioco. La prima verazione la conclude centralmente Giovanni Foderaro, la costruisce buona parte della Vigor, da destra con Maio, a sinistra con Rondinelli. Dopo altri sette minuti Spada prova l'affondo, ma non è coadiuvato. La gara sembra poi concentrarsi sul possesso, facendo emergere imprecisioni di giocate, eccessivi scivoloni, ma Zangara non si scompone e il gioco cambia passo. Lo scalea appunto agguanta il vantaggio al ventunesimo, trovando il Varco tanto ricercato per la conclusione a distanza con Castellano. È l'unico errore di un bravo Rossi. Infatti Castellano si ripete sulla stessa Zolla, ma non trova spazio. La frazione si fa lunga per la Vigor, che risponde fuori specchio, subisce la carica delle ripartenze di Capomaggio e anche Piazzolla sale inoffensiva per servire Spada, ma il miglior servizio per l'argentino è quello di Corigliano, pennellato al trentunesimo. Rossi anticipa di un soffio. Poi si mettono insieme gli ex Lametini. In duetto, Corigliano e Legato fanno appallonate con la difesa bianco-verde per far saltare fuori ancora un nuovo spunto. Nulla da fare per gli uomini di Gregorace, capaci di centrare la traversa al quarantesimo con Corigliano, la cui palla è raccolta poi da Capomaggio, che scaglia un diagonale dal lato opposto. La vigora allora sposta del baricentro, Curcio cerca lo specchio sul capovolgimento, Piazzolla e Castellano cercano invece la bordata dai due fianchi, ma sono solo applausi. E ancora, Lanzo e Castellano continuano a giocare con la palla. All'appuntamento, con l'esultanza però, ci andranno solo gli esterni, anche se il triplice, Tocco, Ramunno, Spada Legato, sembrava un veloce epilogo a rete. La rete si la sfiora a Castellano due volte, su schema riuscito, poi Corigliano al ventiseiesimo, valuta il tempo insieme al legato per pungere il reparto forte della Vigor. In pochi attimi Rossi e Macagnone fanno un miracolo in due e chiudono lo specchio a Spada in area di porta. Sul fronte opposto invece Ramunno sventa il gol nel sette, ma Angotti raccoglie la respinta per violare la rete. Le due squadre, malgrado tutto, non si siedono sul pari, anzi, si rimandano occasioni e Maio alla meglio quando alza la palla sopra la testa di Ramunno e il quarantasettesimo, la Vigor, ribalta il risultato. Grazie a tutti.